Direttore Bellingardi, 40 anni di vita in aeroporto coincide con il ritorno di Alitalia a Bergamo? È vero, non ce l'avevo pensato. Il primo agosto saranno 40 anni di aeroporto, prima di Nate, poi nel 98, comunque la bella e affascinante avventura della cultura di Malpensa, e poi in San Francisco, 40 anni prima di nostro. E questo ritorno come lo vive? Beh, a parte la solita emozione di vedere il tricolore, questo va bene, non è una cosa banale, sembra come dire un discorso sfuntato, ma in effetti è vero, è importante, Fiumicino rimane comunque il lab più importante italiano e quindi permette a tutti i nostri passeggeri un avventaglio di coincidenze che è veramente molto importante per proseguire verso tutte le destinazioni aeroporto. È un complemento anche al discorso dell'alta velocità ferroviaria, questo collegamento? Sì, l'alta velocità non raggiunge ancora Bergamo, quindi è chiaro che l'opportunità di raggiungere Fiumicino in aereo per il nostro territorio era un desiderio che reclamava da tempo, certo, è molto importante. Grazie.